Circa la sicurezza e l'utilizzo dei taxi è chiaro che in questo caso dovremo ascoltare la disponibilità dei taxisti medesimi perché è uno degli elementi fondamentali di questo eventuale accordo. Noi come Regione siamo molto sensibili al problema della sicurezza e per quanto riguarda il trasporto sui treni, perché è l'unico ambito nel quale noi possiamo dire qualcosa, abbiamo aperto un'interlocuzione con il Ministro degli Interni proprio per essere autorizzati ad utilizzare sui treni medesimi guardie speciali giurate che possano aumentare la sensazione e la concreta sicurezza di chi viaggia. Questo è stato fatto dopo che anni addietro ci furono degli impedimenti burocratico-amministrativi da parte del Ministero.